Da qualche mese sta parte in rete sta circolando la possibilità di acquistare un iPhone 11 Pro a poco meno di 2€ Ebbene io vi voglio mettere in guardia da questa truffa perché molti ci potrebbero cascare Noi addirittura cliccando nel link potremmo arrivare alla pagina di Amazon dove probabilmente ci potrà sembrare tutto reale ma non è così Addirittura a me stamattina mi è apparso un video dove faceva vedere un personaggio del tutto casuale Che faceva vedere un video su come iscriversi e poter ricevere questo iPhone Peccato che non l'ho salvato perché quel video è stato rimosso e probabilmente o in base all'IP che voi utilizzate Oppure YouTube ha levato la possibilità di vedere questo video Si vedeva addirittura i commenti sotto che dicevano Ah sono contento ho ricevuto l'iPhone 11 come promesso Un altro commento diceva oggi mi è arrivato l'iPhone Tutti commenti di questo genere e tutti avevano un mi piace al commento Non c'era nessuna frase del tipo truffa, non c'era nessuna frase che diceva che non è andato a buon fine Che non avevano vinto niente, tutti avevano ricevuto l'iPhone Cliccando su questo link che metteva in descrizione ti riportava ad una pagina dove ti diceva appunto che di sbrigarti avevi tipo un minuto e mezzo per comprare questo iPhone Ora ve lo faccio vedere perché ho registrato lo screenshot dello schermo Ecco praticamente qua ti dice congratulazioni oggi hai la possibilità di vincere questo iPhone Hai un minuto e mezzo più o meno Qua devi dire se sei uomo o donna, quanti anni hai Io in questo caso ho messo da 30 a 39 così Quanti membri ci sono nella tua famiglia Ma tutte queste domande non importano perché potresti cliccare in qualsiasi immagine Adesso controlla le tue risposte, hai risposto alle domande E l'IP dice che non risultano sondaggi precedenti Qua ti chiede di andare a vedere se riesci a trovare l'iPhone Il primo tentativo è sempre questo Dice ah hai un'altra possibilità, certo Quindi la seconda andrà sicuramente meglio Quindi potete cliccare in qualsiasi box, non importa Ops, è uscito l'iPhone Oh, allora siamo contenti noi Quindi possiamo pagare un iPhone 11 Pro a meno di 2€ E qua dovete mettere il, per completare tutta la registrazione Dovete mettere i vostri dati Chiaramente dovete Cliccando ok Vi porterà a un altro link Geta, price, free, bla 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 Solo 1,95€ Offerta speciale Qui potete mettere la vostra taglia Tutti chiaramente sceglieranno 256GB E qui dovete mettere le vostre informazioni Quindi nome e cognome Indirizzo, cap e tutto Oppure un pagamento sicuro Ecco, qui ti dice perché hanno bisogno dei tuoi dati Perché riceverai una prova di 5 giorni dal programma del nostro partner Se continua con un abbonamento Oltre al periodo di prova di 5 giorni Ti verrà addebitato un importo sulla tua carta di credito Che varia a seconda della scelta Non ti dicono quanto ti tolgono Quindi voi andate a mettere la vostra carta in maniera del tutto sicuri Perché accettano tutte le carte Il pagamento sicuro e tutto Il problema è che vi attivano un abbonamento Quindi cosa succede? Che vi svuotano praticamente la carta di credito Quindi non ricevete l'iPhone Rimanete come dei mamalucchi E non ricevete niente E vi svuotano il conto Quindi mi raccomando Voi non andate a cliccare in questi link E mi raccomando Non cadete in nessuno di questi tipi di inganni Dove ti promettono che ti regalano le cose Ma chi ti vende un iPhone A meno di 2 euro? Nessuno Io l'ho provato a fare due volte La seconda volta non mi è uscita Quindi ho dovuto cambiare account E quindi in quel caso mi è apparso di nuovo La possibilità di vincere l'iPhone Quindi io volevo solo mettervi in guardia Mi raccomando Usate la testa e ricordatevi che nessuno vi regala niente Specialmente ad un prezzo così basso Io ho solo voluto mettervi in guardia Perché magari uno potrebbe dire Ma 1,95 euro non è chissà che cosa Quindi anche se li perdo non fa nulla Il problema è che vi trattengono i dati della carta di credito Perciò è meglio sempre non inserire questo tipo di pagamento Non abbiamo neanche un pagamento Paypal in questo caso Quindi non siete assicurati per niente Vi svuotano tutto il conto E non avete nient'altro da fare Perché non potete neanche disattivare quel tipo di abbonamento Quindi mi raccomando state alla larga da questi siti Per oggi è tutto Spero che vi sia stato utile questo video Mettete un mi piace E iscrivetevi al canale Ciao Ciao